Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, io sono OneSaniTube e vi do benvenuto in questo canale Prima di tutto iscrivetevi al canale attivando la campanellina in modo tale da restare aggiornati su ciò che pubblico in questo canale La maggior parte di voi ragazzi guarda i video, non si iscrive al canale, non mette mi piace Vi ripeto, quanti iscritti siamo? 112... 113 Cioè, se volete che sottoscritto faccia le live Faccia le live qua su Youtube un attimo Faccia le live qua su Youtube, arriviamo a 150 iscritti Parlo per tutti voi tifosi, milanisti, juventini, interisti, napoletani, bergamaschi, laziali, romanisti, fiorentini, bolognesi Tifosi del Torino, tifosi del Monza, tifosi del Genoa, tifosi del Frosinone, tifosi del Cagliari, tifosi del Verona Iscrivetevi, tanto il canale è gratuito Anche per quelli che giocano in Serie B Per i tifosi Che se fosse qualche iscritto che segue la Serie B Che segue la propria squadra in Serie B Si iscriva anche Allora, post partita Milan-Lecce 3 a 0 Lo so Qua ci sono state delle polemiche Ci sono state polemiche di qua Di questo Del contatto che è avvenuto Ora ne analizzeremo Ne parlerò assieme a voi Perché io ve l'ho già detto nella live reaction Per chi non l'avesse ancora guardato Lo invito a recuperare l'ultimo video A recuperare l'ultimo video E Detto ciò ragazzi Parliamo un po' della partita Allora Primo tempo Scusate sto orlando Abbasso un po' il tono Primo tempo Comunque è abbastanza Piacevole Cioè piacevole Proprio perché Abbiamo giocato solo noi Probabilmente perché Io delle occasioni del Lecce Non è che Ne ho viste E Onestamente ragazzi Abbiamo meritato almeno Primi minuti Va a segno Un gran gol Su assist di Cukueze Per Pulisic Ragazzi Quello è un gran gol Potete dirmelo Ma quello È un gran gol Certo È un gran gol Poi Dopo Dieci minuti circa Olivier Giroux Non ripeterò mai Di dirlo Questo nome qua ragazzi Lo ripeterò ancora 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 Perché ragazzi Lui Lo ringrazierò Per tanto Tanto Ma tanto 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 Giroux ragazzi Perché lui è uno dei pilastri Dello scudetto Ricordandotelo bene Assieme a Leao Eterlandez Quindi E il famoso Si è girato Giroux Non se la scorda nessuno Proprio nel giorno Del derby Quell'anno in cui Siamo arrivati ultimi Nel girono in Champions Con Atletico Madrid Liverpool E Porto E Giocando ovviamente Una volta a settimana Avendo più riposo Abbiamo vinto lo scudetto In faccia a loro Dove comunque Radu Si è schierato Dall'altra parte E Chiudendo questo discorso Ragazzi Parlando un po' Della partita Primo tempo Bello 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 Dove comunque Siamo portati in vantaggio 2 a 0 Così E 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 Però lo vorrei Vedere Siamo continuativi Sette vittorie Consecutive Incluse quelle In campo europeo Sette Di cui Cinque Nel campionato Due In quello europeo E E E Onestamente È Meglio Continuare Sta striscia Positiva Perché le prossime Ragazzi Sono Ma sono Dure Perché il calendario Del milan Questo aprile È È Veramente Abbastanza Infuocato Perché C'è l'andata di Europa League Questo giovedì Poi c'è il sassuolo Domenica Poi c'è il ritorno Di Europa League All'Olimpico E poi c'è C'è la sfida Contro Quelli là Quelli Là Ok E poi dopo Contro quelli là C'è La sfida Contro la Juve La settimana Prossima Ancora Dopo quelli là Quindi È un calendario Abbastanza tosto Abbastanza tosto E Parlando del secondo tempo Ecco I primi Minuti Tutto nel chill Tutto Tranquillo Dove arriva Il minuto 57 Il fallo Di Teo Hernandez Su Anglist Io ve l'ho già detto Per me Quello Era calcio Di rigore Non c'entra Essere Milanista Oppure no Perché io Sono obiettivo In queste cose Certe volte Certe volte Perché io Ragazzi Ho visto L'episodio E per me Quello è calcio Di rigore Quello per Quello su Anglist Se ci fosse Un tifoso De Lecce Che stesse Guardando Questo video Sappiate che Non abbiamo Rubata Questa partita Perché L'abbiamo Già vinta Comunque Che sia 2 a 1 Che sia 2 a 0 L'avremmo Già vinta Questa partita Qua Però Giustamente I favori Arbitrali Vanno Alle big Vanno Alle big Che sia Inter Che sia Juve Che sia Milan Che sia Napoli Che sia Roma Che sia Lazio Vanno Tutte Alle big Ma in generale Proprio Alle piccole Raramente Perché Io ho Analizzato Che in questo periodo I favori arbitrali Sono anche Verso le big Potete essere D'accordo Potete non Essere D'accordo Ma E' questo Quello che ho Visto E E poi Parlando Dell'arbitraggio Qua in serie A Perché Chi si fosse Perso Quel contenuto Chi si fosse Perso Quel contenuto Su 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 Gli arbitri In serie A Invito a recuperare Quel video La Giustamente Il gol di Leao Andava annullato Dopo Dopo il fallo Su Anvist E Non ci dovrebbe Essere stato 3-0 No? Quindi 2-0 Dovrebbe essere O 2-1 Quello che è Ma se fosse Stato Se fosse stato 2-1 O quelli la Non quelli la Il Lecce Ci Sarebbe Diciamo Come dire Sarebbe Ancora Andato Più In Pressing Ci avrebbe Pareggiato Quindi È meglio Che Non dico Che è meglio Che non sia Successo Ma Se vogliamo Avere un Arbitro Più Competitivo Un arbitro Un po' Più Prendiamo Quelli Stranieri Possono Sbagliare Ma Quelli Stranieri Ragazzi Sarebbero Secondo me Sarebbero Più Utili Secondo me Poi Non lo so Non prendiamo Quelli Spagnoli Perché Sappiamo Già Che in La Liga Gli Arbitri Sono Un po' Così Comunque Tre punti Fondamentali Ed è la prima Volta Che succede Non so se è la prima Volta Che il 9 E il 10 E l'11 Segnano In una squadra Nel Milan Per il 9 Intendo il Giroud Per il 10 Intendo Raffaele E per l'11 Intendo Christian Pulisic Meglio così 3-0 Allunghiamo Ulteriormente Sulla Juve A più 9 E A Meno 11 Da quelli là Naturalmente Dovranno sfidare L'Udinese E Vedremo 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 Vabbè ragazzi Mi sono un po' Dilungato Anche se Avrei pubblicato Questo video Verso la mattina Solo che C'è stato Diciamo La gara Di Suzuka Quindi Essendo amante Della Formula 1 Non ho potuto Registrare il video Del post partita Vabbè ragazzi Ci vediamo dopo Probabilmente Per Monza Napoli In contemporanea Con Manchester United Liverpool E Più tardi ancora Ci sarà Tottenham Contro Nottingham Forest E più avanti Lo faremo in contemporanea Con Juventus Fiorentina Quindi Ci sarà Tanto Tanto calcio E domani Udinese Inter Vabbè ragazzi Vi invito a iscrivervi al canale Attivando la campanellina In modo tale Da restare aggiornati Su ciò che pubblico In questo canale La maggior parte di voi ragazzi Guarda i video Non si iscrive al canale Non mette mi piace 113 iscritti Se volete che io faccia Le live Qua su youtube Arriviamo a 150 Parlo per tutti voi tifosi Milanisti Juventini Interisti Napoletani Bergamaschi Laziali Romanisti Fiorentini Bolognesi Non è importanza Quale squadra voi tifiate L'importante è iscriversi al canale Ci vediamo più tardi Per altre partite Da Vanzani YouTube è tutto Ciao